Quando è stato ritrovato il tachigrafo segnava 150 chilometri in più, ancora un mistero, invece la destinazione del furgone scomparso dalla misericordia di Sansepolcro è ritrovato poche ore dopo dai carabinieri che hanno comunque identificato un uomo accusato della sottrazione del mezzo dell'emergenza urgenza. Il furgone era infatti scomparso dalla sede dell'associazione dove era stato parcheggiato pronto per partire in caso di emergenza ed è ricomparso dopo 24 ore in centro nelle vicinanze del museo a Boca con appunto 150 chilometri in più. Le indagini hanno portato i carabinieri ad individuare un uomo di 30 anni noto alle forze dell'ordine e da tempo residente nella città di inabitu urgenze. Sarebbe stato il sistema di videosorveglianza del museo a permettere ai carabinieri di stringere il cerchio attorno al presunto autore del furto. I militari indagano anche sullo scopo del viaggio e sul dove sia stato il veicolo all'interno del quale è stata ritrovata una bici che apparterrebbe allo stesso sospettato. L'ipotesi è che l'abbia caricata prima del furto poi dimenticandola prima di abbandonare il mezzo. Il furgone è stato recuperato dai militari e riportato alla misericordia.